Ben ritrovati dalla Sardegna all'Abruzzo, al di là dei verdetti politici, diciamo di risultati elettorali, c'è stata una conferma per la verità amara, la gente è sempre più stanca e sempre più lontana da questi appuntamenti elettorali. Ne parliamo con il professore Tony Germano, preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Cassino, professore ordinario, ben ritrovato intanto, professore Germano e grazie per la sua disponibilità. Come dicevo in apertura, un abruzzese su due non ha votato, che significato dare a questa sorta di fuga, l'abbiamo titolata così, dalle urne dei cittadini? Innanzitutto grazie per l'invito, poi sono presidente, non presidente, perché i presidenti si sono scomparsi, con fortuna, almeno all'università. Comunque il problema credo che sia antico, lei l'ha discusso tante volte, non solo con me, è stata al centro di tante sue trasmissioni, interventi e così via, la politica ha perso un rapporto con la realtà effettuale, per usare la parola cara a Machiavelli. Oggi gli elettori, o comunque i cittadini, non avvertono più quella passione, quella idealità, quella ambizione alla partecipazione che è la natura stessa della vita politica. Poi i partiti sono scomparsi, sono associazioni in cui i gruppi dirigenti si autoproducono e non c'è nessuna offerta, nessuna possibilità democratica di inserimento se non attraverso la cooptazione. Poi i cittadini in Italia sono di fronte ai problemi della quotidianità e la politica raramente, sembra paradossale, si occupi della quotidianità su una prospettiva di cambiamento concreto, su un'interpretazione anche del futuro, ma tutto è vissuto sul momentaneo, sul condincente, sul gossip, sul dibattito televisivo, ormai i politici sono più degli showman che diciamo degli interpreti della realtà e questo credo che faccia sì che, pensi alla Sardegna, diciamo, ha votato su un milione e quattrocentomila menti di diritto, poco più di centocentomila persone, cosa analoga è avvenuto in Abruzzo. Se lei mette insieme queste realtà, che poi sono realtà nella loro complessità ricche anche di bisogni essenziali, si accorge di quanto ci sia una frattura tra realtà e politica nel suo insieme. C'è stato un episodio davvero molto particolare, da Napoli è partito un pullman per portare i fuorisede a votare, è stata questa l'idea di Martuscello di Forza Italia, ma sostanzialmente secondo lei che segnale è? Ma è il segnale che Totò, la Commedia all'Italiana sono sempre attivi, il palcoscenico è sempre lo stesso, la visione della politica primitiva, per molti aspetti volgare, ma anche comica poi in fondo, immaginiamo questo pullman che sembrano una corriera, quelle dipinte da Steinbeck con tutta questa gente che va verso la Sicilia e verso la Sardegna, la vive come una vacanza, è un mondo divertente se non poggiasse su un fondo di tragicità. La crisi dei partiti, partiti sempre per la verità meno organizzati, anche perché è venuto meno il finanziamento pubblico, hanno ancora un futuro secondo lei, come vanno ripensati soprattutto? Guardi, potrà apparire controcorrente, ma io ritengo che i partiti sono una necessità della politica, i partiti intesi come associazioni in cui confluiscono, si convoiono idee, idealità, passioni, utopie, pensi per esempio al ruolo delle sezioni nelle piccole realtà, nel dopoguerra, l'importanza che hanno avuto anche dal punto di vista di una formazione ed educazione alla politica. Oggi, noi diciamo oggi, ma dovremmo guardare anche in maniera retrospettiva, nell'ultimo ventennio, trentennio, i partiti sono scomparsi e come dicevamo un poc'anzi, si sono generate delle sorte di malformazioni di gruppi dirigenti che in fondo si interscambiano ruoli, funzioni e tra le altre cose, oggi si parla tanto di fascismo, antifascismo, io penso che una delle forme più violente di fascismo è l'occupazione autoritaria degli spazi istituzionali e comunitari, quello che erano i partiti oggi svolgono questo ruolo di impedimento di una selezione di classi dirigenti e soprattutto di una interpretazione delle idee sempre in funzione di una sorgentività che molto spesso è poco rivolta al pubblico e molto rivolta invece al proprio interesse. Ecco, prima di passare a temi piuttosto locali, la sua analisi rispetto all'attuale quadro politico qual è? Perché abbiamo un centro-sinistra che al di là delle formule, campo largo, campo giusto, da Conte a Sklein non riesce ad incidere, è stato così in Abruzzo, c'è il nodo dei centristi da Calenda a Renzi che resti risolto, il centro-destra appare almeno teoricamente più compatto. Ma diciamo che è una politica senza memoria, no? Pensi nel centro-sinistra, pensi, quando lei mi ha chiesto gentilmente di partecipare a questa discussione, ricordavo che nel giugno del 2007 all'ingotto di Torino vi fu il discorso di Veltroni che apriva poi al Partito Democratico, la nascita del Partito Democratico, se lei va a leggere quel discorso, togliendo la parte retorica, bonista, così, ma nella sostanza chi glielo aveva suggerito o aiutato nella scrittura coglieva un grande elemento di rinnovamento nella società italiana, che doveva passare innanzitutto attraverso non la rottamazione, ma un ricambio, perché la rottamazione è una parola che genera sempre conflitti e poi abbiamo visto quanto fosse fatua, ma un ricambio delle classi dirigenti e soprattutto delle motivazioni che stabiliscono un dialogo sia generazionale sia tra politica e elettori. Tutto quello, mi dica di quel modello di partito proposto all'ingotto, cosa resta in vita? A destra è una somma di molteplici istanze in cui si vanno definendo però anche caratteri talvolta eccessivamente populistici, pensi ad alcuni discorsi, interventi e così via, che sono null'altro poi che la trasfigurazione della crisi della politica, la politica in questo momento non ha idee, è ridotta alla gestione, che è una parte minoritaria del fare politica, invece oggi è tutto giocato su questo elemento. Allora professore, guardiamo al voto di giugno per le europee le amministrative, in Campania Avellino è l'unico capoluogo di provincia che andrà alle urne, la questione delle candidature spesso calate dall'altro, è un po' paradossale il caso Avellino perché a tre mesi dal voto né centrodestra né centrosinistra hanno un candidato sindaco, insomma come se lo spiega? Allora lei prima ha detto adesso ci sposteremo dal piano nazionale al piano locale come se fosse una riduzione, il piano locale in questo momento credo che sia una rappresentazione efficace, è una micro storia che è coerente però alla storia, allo svolgimento della realtà e il fatto che Avellino sia l'unico capoluogo di provincia della Campania dove si voti, sia alle europee ovviamente che alle comunali, fa capire quanto sia importante osservare i meccanismi che si generano, però tutto ciò avviene con l'idea che ancora una volta con modelli novecenteschi poi sostanzialmente, sia una questione di nomi, di persone e non di progetti, non di programmi, pensi oggi tutta la battaglia che si fa sulle città sostenibili, in Italia per esempio l'unica città sostenibile al sud in una graduatoria studiata su parametri scientifici è Cosenza, mentre tutte sono Bolzano, Trento, le prime dieci hanno, se c'è qualcuno che parli di economia circolare, se c'è qualcuno che parli di digitalizzazione, di mobilità, di rinnovamento dell'idea dei trasporti, la politica è questo, se noi riduciamo tutto ciò ad un nome, ad una persona, come se poi dovessimo eleggere l'antico gonfaloniere e non una figura di equilibrio armonica nella vita amministrativa, vengono fuori poi delle risse, delle baruffe che più degna del teatro goldoniano che della realtà attuale, perché le ripeto, per quel poco che uno riesce poi accogliere attraverso la stampa le discussioni, ti accorgi che in fondo i linguaggi, il linguaggio guardi è fondamentale nella politica, perché il linguaggio è l'effetto immediato della rappresentazione delle due idee, i linguaggi sono vecchi, sono arcaici, nella migliore delle ipotesi si parla di moralità, di interessi, però poi nella sostanza quando si arriva ai nuclei genetici dei programmi ti accorgi che c'è solo una forma al vuoto. A proposito di moralità, la questione morale va aperta secondo lei nella città di Avellino, Gengaro in una intervista alla nostra emittente ha parlato di sistema Avellino, il sindaco chiaramente che appare attualmente indagato, spera che tutto si risolva in fretta, perché chiaramente i tempi della giustizia non coincidono spesso con i tempi della politica, qual è la sua idea? Ma diciamo che le esecuzioni sommarie sono sempre parte di un mondo tribale, per cui una una cosa che a me francamente non interessa, che il Meridione, inevitabilmente anche Avellino, abbia subito processi di involuzione politica e di conseguenza, perché la conseguenza di involuzione politica è la perdita della tempra etica, della tempra morale, ma questo è un corso vecchio, sarebbe ingiusto collocarlo nel momento, bisognerebbe avere una proiezione per capire la realtà presente, occorre sempre la capacità di avere una visione anche retrospettiva e i problemi, le questioni legate al malgoverno, usiamo questa parola, la corruzione, risalgono certamente, abbiamo una data, abbiamo il 23 novembre 1980 con i terremoti successivi, che non furono terremoti naturali, ma terremoti comportamentali e su quello che si costruisce diciamo tutta una negatività di cui probabilmente ancora oggi si pagano le conseguenze, però ecco una cosa vorrei dirla, quando noi pensiamo a una città come Avellino e vale per tante città del sud, non voglio assolutamente, c'è un bel libro di una scrittrice americana, Leng, che si chiama La città sola, un libro pubblicato in Italia, tradotto in Italia qualche anno fa, pochi anni fa, ti accorgi poi in effetti che ancora oggi noi abbiamo una visione della città come se fosse la città dei balocchi di Pinocchio, no? Cioè dobbiamo appagare il cittadino come se fosse un utente che va al cinema, va al teatro, mentre nella sostanza tu ti accorgi che in fondo le motivazioni politiche e dunque le scelte che incidono nella vita di ciascuno di noi sono legate esclusivamente alla conservazione e alla conquista del consenso. Vi voglio spiegare meglio, partendo proprio da Pinocchio, no? Noi in questi ultimi anni, ma non solo, ripeto, legandolo all'esperienza attuale sarebbe ingiusta, si è sempre preferito diciamo gli ammeccamenti di Lucignolo, sa? Nella città, si ricorda, l'abbiamo letta, è un libro da leggere sempre, è un libro carico di umorismo e anche di cose che potrebbero servirci nell'oggi. Lucignolo per attirare Pinocchio gli dice guarda lì è sempre giovedì, perché il giovedì non si andava a scuola, per cui questa città era fatta di sei giovedì e di una domenica, per cui non c'erano libri, non c'era dibattito, non c'era, si era sempre nella festa. Ritenere, ecco questo è l'errore secondo me più grande che è stato fatto e c'è stata poi un'accelerazione, che una bancarella carica di torrone o di cioccolata possa poi supplire a bisogni primari, quale il lavoro, quale il bisogno comunitario e l'esigenza di abitare la città, non di subirla, questo è un errore imperdonabile che secondo me poggia anche su un fondamento culturale, perché tenga a conto che noi la cultura, qui sarebbe tutto un altro programma e glielo risparmio perché so che lei ha il tempo, la cultura è sempre prassi, è sempre pensiero che si fa azione, che si fa svolgimento, dov'è la cultura? Ancora oggi lei sente dire società civile, ma la società civile è fatta dall'operatore ecologico, dall'insegnante, dal fabbro, dall'operario che si alza alle 4 del mattino per andare a Pomigliano d'Arco col pullman, questa è la società civile, ma questa società civile quanto è in grado di essere alternativa al modello invece che ti propone la politica, cioè quella di convertirti immediatamente in un pezzo di un ingranaggio, di un meccanismo? Non so se è chiaro quello che dico. La discussione è molto interessante, però purtroppo il nostro tempo è scaduto. No, lo so che lei consuma le parole. No, un'ultima cosa, lasciamo che ci ascolta con un'immagine bella ed è un'invita anche alla lettura, perché poi alla fine credo che i libri siano sempre utili a non farci usare dalle parole degli altri. C'è un famoso libro di Hemingway, Per chi suona la campana, che la mia generazione ha letto e così via, lui mette in epigrafo una frase di un poeta inglese dove dice Per chi suona la campana? Questo lo potrei ricordare ai moralisti, no? E lui dice In effetti suona anche per me, per cui questa aggressività moralistica, ricordiamolo, che è anche una componente autobiografica. E dopo questa splendida citazione chiudiamo qui la nostra rubrica. Grazie al professore Tony Germano per aver partecipato al nostro punto di vista di oggi. In regia Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.